Dai, tranquilli eh che adesso parte Hai sentito? Che ti avevo detto? È una cantante? Vuoi che ti canti qualcos'altro? No, no, va bene così, mi basta. Ho i testicoli sensibili, grazie. Sergio? Sergio anche sezzo. Sergio ha mandato me. Ha mandato te, ho capito. Un minuto, dammi un minuto. Anta! Hai hai. Mo ikaro ya me. Beh, passiamo alle presentazioni. Signori?